Lunedì caldo a Palazzo Zanca per l'approvazione delle misure correttive da inviare alla Corte dei Conti dopo gli ammonimenti dell'organo contabile sulle spese e le criticità delle casse comunali. All'atto proposto dall'assessore al bilancio Guido Signorino, il consigliere del gruppo Felice Permessina, Giuseppe Sant'Alco, ha proposto un emendamento attraverso cui il Consiglio tende a prendere le distanze dai dati inseriti nel provvedimento, spiegando che i consiglieri non hanno piena contezza di documenti che ancora non sono stati sottoposti al baglio del Consiglio, come ad esempio il piano di riequilibrio. Proprio sul piano decennale di rientro dal debito, ma ancora di più sul consuntivo del 2013, in questi giorni si è scatenato un valzer di polemiche a cui ha dato il via il Collegio dei Revisori, che ha lamentato l'assenza di allegati fondamentali all'esame del documento, come ad esempio quelli riguardanti i debiti delle partecipate. Signorino adesso assicura che la ricognizione pronta e così come richiesto dalla Corte dei Conti sarà legata al consuntivo 2013, anche se visti i tempi stringenti e gli umori del Consiglio Comunale non è affatto detto che l'atto contabile troverà la sponda in aula, si fa sempre più probabile dunque l'arrivo di un commissario.